A seguito di segnalazione a firma del referente unico dell'Ancadic Vincenzo Crea, dello scorso 17 marzo, riguardante un inconveniente igienico-sanitario per scarico fognario sul lungomare Paolo Latella, località Pellaro, è intervenuto prontamente personale tecnico della prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria, effettuando ripetuti sopralluoghi, anche congiuntamente con il direttore del servizio della società Idroregion SRL, che gestisce gli impianti di depurazione, rilevando quanto di seguito. Nella spiaggia di fronte allo stadio comunale di Pellaro, sito nel lungomare Paolo Latella, è presente un canale di cemento armato, con copertura in parte di velta, che scarica direttamente a mare liquido, di cui non si conosce l'origine. Da tale canalone provengono odori molesti, anche a causa del ristagno dell'acqua, poiché il suo passaggio è parzialmente ostruito, dalla copertura in cemento che nel tempo acceduto si nota altresì presenza di carte e fibre di tessuti. Da accertamenti, presso la sede della società Idroregion, contattato il direttore del servizio, ha assicurato che avrebbe provveduto da subito a verificare eventuali malfunzionamenti dei due impianti di sollevamento della zona, oltre a effettuare campionamento delle acque che scorrono nel canalone. In data 1 aprile è stato effettuato ulteriore sopralluogo nel sito in oggetto, accertando che la situazione è sovrapponibile a quanto accertato in data 23 marzo 2022. Pertanto si è proceduto ad avere un ulteriore colloquio con il direttore della Idroregion, il quale ha riferito che le pompe di sollevamento funzionano correttamente e non si riscontrava perdite fognarie, così come risultava nel registro degli interventi, che la società effettua periodicamente. Ha riferito che lo scarico a mare non è liquido fognario, poiché il campionamento ha dato esito negativo. Conclusioni. Si rende necessario stabilire le cause ed eliminare gli effetti che causano l'inconveniente igienico-sanitario e mettere in sicurezza il canalone, e quant'altro si rende necessaria tutela della salute e incolumità pubblica. La suddetta nota è stata inviata dal dirigente medico dell'ASP, Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, al sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, alla città metropolitana di Reggio Calabria, settore 13, difesa del suolo e demanio idrico-fluviale, all'assessore all'ambiente della Regione Calabria, alla Regione Calabria Dipartimento di Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, alla Idroregion, e per conoscenza all'ARPACAL di Reggio Calabria, alla Prefettura di Reggio Calabria, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria e al Referente Unico dell'Ancadic. È stato specificato quanto è necessario intraprendere, al fine di una bonifica attuale, dello Stato dei luoghi, sottolineando che è doveroso che gli enti di indirizzo cui compete verificano quale sia la liceità costruttiva del canale. Il suo effettivo utilizzo è provvedono con l'ineludibilità che il caso impone, ammettere a non malesistente, secondo i dettami dell'articolo 23 della legge regionale numero 10 del 1997. Null'altro può essere aggiunto dal punto di vista estrettamente igienico-sanitario, se non ribadire con forza la dovuta risoluzione della problematica. In narrazione, a tutela della salute, a protezione dell'ambiente. Il referente dell'Ancadic, più volte in dati e orari diversi, soprattutto la mattina presto, si è regato sul posto e ha potuto constatare, Ictuocoli, che le acque scaricate dalla suddetta struttura sono liquami fognari. Attendiamo l'esito degli accertamenti dell'ARPACAL. Vincenzo Crea, referente unico dell'Ancadic, responsabile del comitato spontaneo Torrente Oliveto.